Sì, lo so. Qualche anno fa Frozen divenne un vero e proprio tormentone, soprattutto grazie alla canzone principale, Let it go, che veniva trasmessa praticamente dovunque all'epoca. Mancava solo che aprissimo il frigo e partisse Let it go. Eravamo a quei livelli. E portò allo sfinimento orde di genitori che si sarebbero volentieri bucati timpani come il più virtuoso di Cavalieri dello Zodiaco, anziché sentire ancora una volta il figlio che suonava quella canzoncina col flauto giocattolo. Comunque Frozen è un film tutto sommato degno di nota, soprattutto perché la leggenda che lo ha in parte ispirato, ovvero la regina delle nevi, ha un suo innegabile fascino. Non indugiamo oltre e riassumiamo Frozen, il regno di ghiaccio. Siamo nel regno di Arendelle e le principesse Elsa e Anna vivono serenamente, nonostante la prima abbia dei poteri che le consentono di manipolare il ghiaccio e la neve. Siccome Anna è una bimbetta piccola infissa coi pupazzi di neve, prega la sorella di giocare coi suoi poteri. E durante una sessione intensa di salti su lastre di Polaretti, Anna viene per sbaglio colpita da del ghiaccio lanciato da Elsa e i genitori, preoccupatissimi, la portano immediatamente dai troll, che le curano l'infezione da freezer nell'occhio dalla quale la ragazzina ci ricava una ciocca di capelli bianchi. I genitori, anziché confortare Elsa e guidarla nell'utilizzo dei suoi poteri, la segregano in camera impedendole di vedere persino la donna delle pulizie. Per la serie, tuo figlio ha un problema? O chiudilo in camera e butta via la chiave! I genitori dell'anno! Passano gli anni e quando ambe e due le ragazze sono grandi, i genitori devono lasciare il paese, ma una violenta tempesta decreterà la loro fine. Elsa diviene così regina di Arendelle e in occasione della cerimonia di incoronazione vengono aperte per la prima volta dopo anni le porte del palazzo, che avranno bisogno, deduco, di grandi quantità di svitol. Con quei cardini abbandonati a loro stessi. Anna è elettrizzata di parlare qualcuno che non sia un membro della servitù, mentre Elsa ha lo stesso slancio emotivo di una sociale invitata ad un matrimonio, perché timorosa che qualcuno scopra dei suoi poteri che tenta di tenere a bada con dei guanti. La cerimonia, per fortuna, si conclude senza che nessuno diventi una scultura di ghiaccio umano e si arriva alla sera della festa. Qui Anna incontra l'affascinante principe Hans, del quale si innamora in 448 dopo una canzone molto ben coreografica, devo dire, e annuncia alla sorella di volerlo sposare. F4 basita per la news a ciel sereno, Elsa rifiuta categoricamente la cosa e tenta di svignarsela, ma inavvertitamente dà dimostrazioni dei suoi ice powers. E fugge là sui monti con Annette dopo che un vecchio nano col parrucchino le dà del mostro. Sconvolta, Anna parte alla ricerca di sua sorella, mentre sul regno di Arendelle inizia a cadere la neve, creando un inverno improvviso. Gigi D'Alessio però l'aveva detto, le domeniche d'agosto quanta neve che cadrà. Profeta! Capendo che non può affrontare la montagna innevata con un abito da sera, Anna si ferma ad un emporio, dove incontra Christophe, un venditore di ghiaccio che parla con la sua renna Sven, ed è stato cresciuto dai troll. Una persona normalina, quindi, dai. Anna chiede così al ragazzo di accompagnarla alla ricerca di sua sorella, che nel giro di dieci minuti intanto in cima alla montagna, ha creato un pupazzo di neve senziente, Olaf. Costruito un gigantesco palazzo di ghiaccio, è creato un nuovo abito. Allora, capisco il pupazzo di neve, capisco anche il palazzo gigantesco di ghiaccio, che poi non voglio sapere se pure il water è de ghiaccio, e quindi TJ lì le ciapette ogni volta che va a fare pipì, ma questo è un altro discorso, ma è il vestito? Sorella, c'è il potere sul ghiaccio e sulla neve, mica sulla stoffa! Perché quello di sicuro non è fatto di granita, eh. Anna e Christophe, dopo essersi caricati appresso il pupazzo di neve più chiacchierone della storia, giungono al palazzo di Elsa, che però, sempre terrorizzata dal poter fare del male a qualcuno con i suoi poteri, caccia via la sorella. Non prima di caricarsi di ulteriore ansia, quando scopre che ad Arendelle è calato l'inverno per colpa sua. Reagisce così un po' malissimo, e finisce per colpire, senza accorgersene Anna, con una scheggia di ghiaccio al cuore. Quando la ragazza inizia a stare male, Christophe la porta dai troll, che le avvisano che solo un gesto di vero amore potrà sciogliere un cuore ghiacciato. Così alla principessa non resta che tornare al castello per cercare di ricevere un limone duro da Hans, nonostante anche il venditore di ghiaccio sia ben disponibile ad aiutarla, eh. Nel frattempo Hans ha inviato dei soldati a cercare la regina, e quando viene trovata è catturata e rinchiusa in una cella. Quando finalmente Anna torna al castello, vicino ormai al congelamento, scopre il più grande volta faccia della storia dei cartoni disneyani. Hans è in realtà un arrampicatore sociale della peggior specie, interessato solo ed esclusivamente al potere. E lascia la ragazza morire congelata, sicuro di conquistare il trono con un barbatrucco. Elsa nel frattempo ha fatto prison break ed è fuggito dalla sua cella, mentre tutta la città sembra il set apocalittico di un disaster movie sul clima. Hans sgamma la ragazza in mezzo a una bufera e tenta di ucciderla, ma interviene Anna, che si immola diventando una scultura di ghiaccio, rinunciando al bacio di Christophe, che era tornato indietro per lei, perché si torna sempre indietro per la patatunza. Elsa si dispera, ma Anna torna normale in un batter d'occhio, perché i troll non avevano specificato che per sciogliere il cuore ghiacciato bastasse un gesto d'amore qualunque, non necessariamente l'amore bl 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 bl. Elsa capisce così che deve far leva sull'amore per far tornare l'estate. Hans è deportato al suo paese, mentre Anna e Christophe possono finalmente sbaciucchiarsi. D'ora in poi le porte del castello saranno aperte a tutti, anche a quelli che fino a due giorni prima chiamavano Elsa mostro, ma hey, le vere principesse dimenticano e perdonano. Poi Elsa è una regina, figurati. The cold never bother me anyway, cantava Elsa in Let it go. E sapessi a Indy che fastidio può dargli spiaggiarsi sul tappetino dove tengo il mouse, che tanto non è un problema che io debba usare il pc, no? In porta shy, eh? Sono questi i suoi superpoteri. Trovare il posto dove ti dà più fastidio per sdraiarsi. Venne un vero e proprio tormentolone. Carino però tormentolone. Mi piace come neologismo. Un film che ha un innegabile fascino. Eh? Arendelle e le due principesse, Hansa e Dels... Ho fatto un mescià. Una sessione di salti volanti sui polaletti. Po, 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 polaletti. Guidarla nell'uso dei suoi poteri, la segretano in camera sbagliando. Entità esorbitanti di suito, l'immagino. La sociale è invitata ad un patrimonio. Aspetta, il patrimonio magari è contento. Il matrimonio, un po' me. Usa c'è il sereno, Elsa nega decisamente il suo contento. Con senso! Sussarla con la sua renna Sven ed è stato cresciuto dalle renne. Troll! Christophe, dopo essersi caricati, espresso... Uuuuuno! Carica di ulteriore ansia, dopo che... Non si ricorda più quello che deve dire. Nel frattempo Hans ha mandato... Debo... Perché non mi ricordo le parole oggi? Hans capisce come far tornare lettate. E però si dimentica la S.